Bene amici di Telefino.net, Transformer Prime di Asus, il video che sta girando questo video, il pad che sta girando questo video, 1080p la risoluzione, possibilità di zoomare come vedete con uno zoom ovviamente digitale, sempre a 1080p, torniamo indietro, fan veloce e ora mi fermo un attimo, video che stiamo girando da Asus Transformer Prime.